ed eccoci qua in veronza i soliti tre pellegrini cioè io romano e filippo con la vela super eagle 2 eccezionale c'è ancora un po di brezza ragazzi guardate che spettacolo ma che spettacolo raga guardate che roba guardate che bello guardate che che colori guardate che figata e noi siamo qua invece di lavorare a cazzeggiare allora oggi martedì 10 novembre filippo tenta di decollare da veronza senza neanche l'imbrago si è collegato alla cintura dei pantaloni alle asole dei pantaloni con i moschettoni dai fammi vedere fammi sognare filippo dai aspetta vai filippo vai grande grande si può fare dai alle asole dei pantaloni dai così come si ok quando vuoi c'è non ce n'è di più qua bella ce l'hai perfetta fuori bellissima bellissima filippo nooo no il mio imbrago mi ha sporcato l'imbrago cazzo ti ho detto no col sedere si atterra infatti ha rinforzato adesso ha rinforzato cosa? dove l'hai sentita? l'imbrago com'è? vaffanculo vedrà che c'è bella edo adesso porco cane bella bravo frenala bravo sinibravo bravo vai 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 corri 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 perfetta fai un sinistro bravo ma che c'è il dirupo bravo bravo bravo